Sono le 7, buongiorno e benvenuti a tutti alla rassegna stampa del giorno occhio ai giornali sul canale 19 di Fano TV abbiamo tante cose da farvi vedere, tanti giornali, tanti articoli che abbiamo selezionato per voi questa mattina, quindi andiamo un pochettino di corsa e cominciamo subito dal cartello con l'almanacco che racchiude il santo e il sole, sole e luna. Allora oggi è San Giustino, San Giustino Martire, un filosofo che a un certo punto poi, insomma, lei comincia a leggere il Vangelo e scopre che lì c'è la verità e allora lui che cercava la felicità nella filosofia si sposta e scrive l'Apologia, l'Apologia che però gli costerà poi la vita. Andiamo invece a del sole sotto le 5.28, tramonterà le 20.44, che stamattina vi porto e apriamo simbolicamente un po' una finestra sulla nostra splendida regione Marche e andiamo a vedere come si presenta la mattinata, sono le 7 del mattino, dicevo come si presenta Senigallia questa mattina, andiamo a vedere, eccola qua, guardate che meraviglia, sembra neanche di stare nelle Marche, la rotonda sulla parte sinistra in alto del vostro teleschermo, questo lungo viale ancora semideserto, qualcuno che passeggia in queste prime ore del mattino, ci sono le vongolari ancora, non so se le vedete in alto vicino alla rotonda, proprio al bordo in alto del vostro televisore, ci sono le vongolari che stanno rientrando in porto e poi naturalmente tanta gente, insomma comincia a esserci gente che passeggia, fa le sue passeggiate in acqua e poi anche ovviamente i concessionari che cominciano a sistemare, ma anche se vedo, devo dire, a colpo d'occhio così, è una spiaggia bella, ordinata, guardate che bella, non sembra nemmeno di stare nelle Marche, sembra una spiaggia, che ne so, di quelle americane, ecco, questa è Senigallia e salutiamo naturalmente tutti i nostri ascoltatori che ci seguono da lì e anche coloro che sono in vacanza a Senigallia. Allora andiamo a vedere il tempo perché è importante per queste giornate, domani è festa, poi vedremo anche gli articoli, insomma sono giornate piuttosto soleggiate, calde, allora il cielo per oggi sarà sereno o poco nuvoloso, per la giornata di domani ancora cielo sereno o poco nuvoloso e venerdì 3 lo stesso, cielo sereno con temperature comunque che sono decisamente alte, ancora alta pressione ecco qui dal Nord Africa, vedete questo che garantirà tempo stabile per tutto il fine settimana, ma soprattutto se andiamo a vedere anche un attimo la tabella delle temperature, quelle previste per la giornata di oggi, ecco guardatele un po' da soli così senza che faccio tutto l'elenco, partiamo da Ancona alle 2 del pomeriggio con 27 gradi, Ascoli Piceno 29 e mi pare che più o meno sia la più alta insieme a Macerata, poi per il resto Pesaro invece come vedete, Pesaro fanno 25 gradi ma insomma ecco Urbino 25, la situazione è questa per oggi ma domani vedete salgono le temperature, sempre le 2 del pomeriggio, tocchiamo anche i 30 gradi, 30 gradi a Macerata, quasi 30 gradi insomma anche nelle altre località, Pesaro fanno siamo intorno ai 26-27 gradi, va bene questo per dirvi insomma che dopo la pioggia dei giorni scorsi torna il bel tempo, andiamo adesso a vedere subito i giornali, cominciamo dal carlino di Pesaro, il problema del pesce, la guerra anzi del pesce, tensione alta tra i pescatori, il molo a Pesaro è pattugliato dai carabinieri, poi la cronaca nel senso che gli studenti sono stati convocati dal prefetto, chiedono più sicurezza al campus, un incontro dei ragazzi con il prefetto dopo il pestaggio, cani antidroga, telecamere H24 e naturalmente la prevenzione. Poi l'inconveniente che è avvenuto al tribunale di Pesaro, blackout di 12 ore in tribunale, tutta colpa di un fusibile e c'è chi fa udienza praticamente all'aperto. Poi sempre dalla prima del carlino, vecchio palace, stavolta sarà vero, lavori scatta l'ultimo stralcio, poi da Colli al Metauro, un ragazzino che è scappato, scappa, ritrovato il giorno dopo in Emilia Romagna, poi concerto col soprano russo, protestano gli ucraini a Fano, addio Marche Nord, ricessere, dicono penalizzati dalla regione, la riforma di Saltamartini dunque non piace. Lo sport, VL, il basket tra le alternative, ora c'è anche Sacchetti, via dalla Nazionale è tra i coach, praticamente disponibili, liberi. E poi ecco le cure in acqua per i cani aggressivi, parte l'esperimento. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico, in apertura caldo africano e siccità che minacciano l'agricoltura, arriva Scipione, si salvi chi può. E' questo anticiclone, come dicevamo, nordafricano che farà la sua comparsa tra poche ore e che farà sentire ovviamente i suoi effetti. Intanto spiaggia, ruspe e pienone, i ripascimenti andranno avanti fino al pomeriggio, siamo nelle spiagge di Pesaro, protestano i concessionari di Sottomonte, bagnanti, domani si attende il boom ma ancora non si è riusciti praticamente, lo vedremo tra poco, a rimettere gli ombrelloni, arriva, mentre, e questo farà sicuramente bene anche alla nostra regione, sempre penalizzata, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e anche in autostrada, stop, cantiere in autostrada, test nel ponte del 2 giugno, dunque una boccata d'ossigeno da domani fino a lunedì prossimo. Poi la cronaca con questa notizia che arriva sempre da Pesaro, Covid, non archiviate la morte di mia madre, la procura ha chiesto di poter chiudere il caso ma il figlio dell'anziana si oppone ed impugna la sentenza. Andiamo adesso, ricominciamo, entriamo subito nelle pagine interne dei nostri giornali, dei nostri due quotidiani, per fermarci un attimo su questa questione del tempo, perché come dicevo gli effetti del caldo si faranno sentire, stiamo andando verso l'estate per cui nulla di nuovo sotto il sole verrebbe da dire, però c'è il problema della siccità e questo invece credo che sia un punto che dobbiamo un attimino, sul quale dobbiamo soffermarci e lo facciamo grazie al Corriere Adriatico e a questa intervista che è stata realizzata al climatologo della regione Fazzini, Massimiliano Fazzini, che vedete in questa fotografia. Allora, intanto il dato, il dato principale qual è? È che nelle Marche c'è un giorno di pioggia ogni sette, è così che i terreni praticamente inaridiscono e si va verso la desertificazione. Ora, Fazzini dice, la causa di questa siccità è sicuramente umana e soprattutto sprechiamo troppa acqua, non solo sprechiamo troppa acqua da una parte, ma dall'altra quella che piove, quelle poche volte che piove, la sciupiamo nel senso che non abbiamo messo ancora in campo nulla per poterla raccogliere, trattenere e utilizzare poi quando serve, soprattutto nei mesi estivi. Allora, andiamo velocemente a leggere alcuni brani di questa intervista che troverete sul giornale di oggi. Allora, negli ultimi tre anni, tra la fine dell'autunno e l'inverno scorso, è piovuto il 40-50% in meno rispetto al passato. Anche le nevicate, condensate in soli dieci giorni, si sono sciolte in conseguenza di un innalzamento delle temperature che di solito, purtroppo, arrivano subito dopo. Ora, quali sono le conseguenze? Se la ricarica delle falde e degli invasi non si verifica o lo fa in maniera parziale, si va incontro appunto all'inaridimento dei terreni, a lungo termine poi alla desertificazione. Ora, le marche stanno andando verso questa desertificazione? Chiede il collega. La risposta di Fazzini. Da questo punto di vista le marche sono fortunate perché hanno un'enorme potenzialità di acqua dove ci sono gli acquiferi carbonatici, ovvero nei Sibillini. Quindi nel sud della regione le cose vanno decisamente meglio. Il problema è capire se il trend di scarsa piovosità è costante oppure passeggero. E poi c'è un dato che riguarda gli anni 80-90 e oggi. Negli anni 80-90 si registrava un giorno di pioggia ogni 5. Da allora ad oggi il rapporto è sceso ad uno ogni 7. Dunque, e qui ci fa capire meglio un po' com'è la questione, ormai da molti anni ci sono solo 50 giorni piovosi su 365. Quindi insomma, sempre più spesso poi tra l'altro si tratta di pioggia irregolare, come nel caso dei nubi fragili, quelle che noi chiamiamo giornalisticamente le bombe d'acqua e non possiamo più permetterci dunque di sprecare l'acqua. Intanto, per quanto riguarda la previsione, domenica 5 sarà una giornata bollente e si registrerà dunque un'impennata delle temperature. Poi però, e qui forse per i freddofili, cosiddetti freddofili, quelli che non amano molto il caldo e preferiscono il fresco, dalla prossima settimana arriverà più aria fresca invece da nord e quindi le temperature scenderanno. Intanto la grandine di lunedì, siamo sulla pagina della Valle del Cesano di oggi, la grandine di lunedì ha danneggiato le colture. La Coldiretti esorta gli agricoltori a stipulare delle polizze assicurative. Buone notizie arrivano invece sul fronte della sanità per quanto riguarda il vaiolo, il cosiddetto vaiolo delle scimmie, rientra l'allarme, la giovane è negativa. Dunque questa ragazza di 24 anni, straniera, residente in Francia ma con base a Loreto, che era ricoverata a Torrette, non ha il vaiolo delle scimmie. Era il primo caso sospetto delle Marche, in attesa del reagente i campioni prelevati sulla paziente sono stati testati a Cesena. Dicevamo che domani è festa, ci sarà bel tempo, quindi le spiagge verranno sicuramente prese d'assalto. Non tutti però sono pronti per accogliere, o perlomeno sono parzialmente pronti, come Lino Virso della spiaggia Sottomonte a Pesaro fa notare con questa fotografia e segnalazione che ha inviato al Corriere Adriatico. Lui dice abbiamo le ruspe in spiaggia e domani avremo il pienone. Quando metto gli ombrelloni, si domanda, a Sottomonte protestano dunque i bagnini per il ripascimento incompleto alla vigilia del ponte. Esposto dopo la morte per Covid, la famiglia dice no all'archiviazione, indagini concluse, la procura ha chiesto di chiudere il caso, ma il figlio di questa donna anziana si oppone. Il figlio dell'anziana aveva chiesto un risarcimento danno alla struttura che non lo ha però corrisposto, motivo per cui è partito poi l'esposto alla procura di Pesaro. La donna, in questo caso, riguarda una signora di 84 anni morta all'inizio del 2021 all'ospedale di Pesaro proveniente da una struttura per anziani. Intanto la notizia di ieri della cancellazione di Marche Nord, l'azienda ospedaliera nella provincia di Pesaro Urbino, ha creato un po' di trambusto. Ora tutti si affrettano, soprattutto i sindaci di Pesaro e di Fano, a dire no, deve restare. Ricci e Seri si oppongono al taglio e chiedono di incontrare dunque il Presidente della Regione Acquaroli. Il concetto, dicono, scrivono, è molto semplice e lo ribadiamo da mesi. Senza azienda ospedaliere il nord delle Marche non avrà le eccellenze che merita e senza eccellenze il nostro territorio è meno attrattivo. Di conseguenza tanti cittadini continueranno a scegliere l'Emilia Romagna per curare malattie oppure fare interventi, aumentando così la mobilità passiva. E su questo argomento anche il resto di Carlino, che ieri aveva dato per primo appunto questa notizia, a pagina 7, scrive Rivoluzione Sanità, si riaffaccia a Gardi, lo vedete in questa fotografia. Gardi è il manager cardiologo che guidò Marche Nord negli anni 90 e si dice perplesso del progetto della Regione. Servono risorse, vedo solo intenti. Naturalmente questo progetto della Regione prevede l'eliminazione dell'azienda ospedaliera, abbiamo già detto, il modello è costoso, come pensano di mantenerlo? Intanto riforma, smettete di penalizzarci, i riceseri fanno fronte comune, lettera indirizzata da Acquaroli con richiesta di un incontro urgente e dicono in sostanza siamo preoccupati. La cronaca, pagina 12 del Carlino da Fanno, un ragazzino, anzi Colli al Metauro, scappa, un ragazzino che scappa è stato trovato il giorno dopo a Rimini, si tratta di un quindicenne di Colli al Metauro, si era allontanato ieri pomeriggio a causa di un litigio con i genitori, ha dormito su una panchina alla stazione, la famiglia aveva allertato le forze dell'ordine, in più sui social era stata diffusa la sua foto. L'articolo di Tiziana Petrelli sul giornale di questa mattina, mentre sempre la Petrelli si occupa anche, e qui attenzione, soprattutto automobilisti fanesi o anche delle zone limitrofe che però viaggiano lungo le strade più frequentate del nostro territorio, sto parlando della Statale 16 e della Via Flaminia, perché da oggi, da oggi, attenzione, entrano in funzione i due autovelox, quello di Cucurano e quello della Statale 16 di Metauriglia. Allora andiamo a vedere l'articolo sulla pagina 10 del resto del credo di oggi. Intanto c'è anche nella fotografia la comandante della polizia locale a Narita Montagna che dice nel varco di Ponte Metauro 12.000 transiti al giorno serve prudenza. Dunque da oggi sono in funzione, la velocità si paga a caro prezzo. Quanto si paga? Allora facciamo subito, perché credo che sia importante, perché quando parliamo di soldi e di multe si addrizzano le orecchie. Per il resto si fa un po' orecchio da mercante. Allora i due impianti in funzione da oggi rilevano il passaggio di qualunque tipo di veicolo targato in entrambi i sensi di marcia, anche se sono posizionati solo su un lato della strada, il che potrebbe ingannare perché uno dice vabbè ma siccome sta a sinistra probabilmente prende quelli di sinistra. No, prende tutti e due, sia da un lato che dall'altro. Le sanzioni sono diverse. Allora se uno ha intanto il limite, lo ricordiamo, di 50 km orari. Quindi quanto pago se io vado e supero il limite dei 50? Intanto ci sono i 5 km di tollerabilità per cui entro 55 km non succede niente. Ma se uno già fa 56 km e entro i 60 la multa è di 42 euro che può salire fino a 173, mentre per chi supera dagli 11 ai 40 km in più va bene? Quindi se al posto dei 60 uno fa il 61 fino ai 40 km in più la multa comincia ad essere di 173. Poi c'è la maggiorazione del 30% se invece prendete la multa e andate veloci dopo le 10 di sera fino alle 7 del mattino perché di notte ovviamente, essendo anche più pericoloso, molta gente pigia sull'acceleratore, sul gas e quindi lì la questione si complica 30% in più rispetto alle cifre che vi ho appena detto. Mentre per il ritiro della patente bisogna andare oltre i 90-96 km orari in più rispetto ai 50 stabiliti per legge come limite di velocità. Ecco, spero di aver chiarito, deve essere stato chiaro. L'obiettivo, dice Narita Montagna, è solo di evitare gli incidenti e quindi non fare cassa. Le sanzioni sono da 42 euro fino alla sospensione della patente. Vedremo, vedremo insomma che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto comunque la gente, ho visto che comincia a capire e quindi rallenta. Però quando uno è un po' sopra pensiero, magari quei 50 km, uno fa in fretta. Soprattutto quelli che hanno macchine cosiddette forti, potenti, che se vai ai 50 veramente sembra di essere fermi. Però la sicurezza è importante, quindi benvengono questi deterrenti. Allora, ragazzi del Nofi, guardate questa fotografia che pubblica il Carlino Piccolina, noi l'abbiamo ingrandita, è la rotatoria che si trova vicino alla stazione ferroviaria di Fano, che era un po' effettivamente sbiadita. Mi pare che fosse tendente al rosso. Oggi invece abbiamo un bel blu con un cerchio giallo attorno. Sono i ragazzi del Nolfi a Polloni che colorano queste rotatorie della città per donare un messaggio di speranza. Accordo sulle misure sociali, ma c'è uno screzio sull'IRPEF. Siamo sulla pagina di Fano del Corriere di oggi. Firmato un protocollo tra il Comune e i sindacati. Agevolazioni per famiglie e imprese. Anche qui sotto, attenti agli autovelox, multe fino a 1.126 euro. Chiaramente a questa cifra si arriva con 10 punti poi in meno sulla patente quando, dicevamo, si superano i 90 e passa chilometri orari. La questione dei bagni pubblici a Fano, che ogni tanto torna in auge, soprattutto quando arriva la bella stagione. Pincio, bagni pubblici nel 2023, ma la sovrintendenza vigilerà l'impegno di Brunori anche per Ponte Sasso, Alido e Sassogna. Efficienti invece sono i box attuali. Questa è un'immagine invece, i fanesi la ricorderanno, ce l'avranno sotto gli occhi, ma ormai forse non ci si fa neanche più caso. Da sinistra i bagni pubblici chiusi del Pincio e di Piazzale Marconi. Sono due strutture ormai chiuse, questi bagni pubblici dove un tempo, ma tanti tanti anni fa insomma, ormai sono chiusi da decenni, si andava sotto, si entrava sotto in queste, sembrava quasi le catacombe, per andare appunto al bagno. Adesso sono chiusi, vedremo che cosa intende fare il Comune. In finale c'è anche, qui parliamo invece di un'iniziativa, un'iniziativa che riguarda il coro, un coro che vede alcune formazioni, anzi ce ne sono cinque formazioni delle primarie di Marche, Emilia Romagna e Liguria, la finale di questo concorso Canoro alle 17 di venerdì al Teatro della Fortuna, in finale c'è anche il piccolo coro di Fenile, Fenile che è un piccolo quartiere della città di Fano. E invece un concerto molto più grande, ma che già sta facendo discutere, un concerto che nelle intenzioni era stato organizzato, è stato organizzato per la pace nei territori interessati dalla guerra, quindi l'Ucraina, un concerto col soprano russo, protestano gli ucraini, contestata l'iniziativa benefica dell'Avsi, padre Volodymyr dice troppa sofferenza, si rischia di generare tensione, meglio preghiere e carità. Mentre Alina, la referente della comunità ucraina, dice spero almeno che ognuno canti nella sua lingua. C'è una dichiarazione importante che secondo me vale la pena per non travisare un po' anche le parole attraverso il titolo, per non fomentare un po' questi momenti che sono già di per sé complicati. Allora dice questo prete, non abbiamo nulla contro, no qui dice parla Alina, non abbiamo nulla contro il popolo russo, dice questa referente per la comunità ucraina Fano, ma spero che venerdì ogni soprano, ogni soprano canti nella sua lingua. Noi ucraini teniamo alla nostra lingua e alla nostra cultura. Padre Volodymyr fa presente che nel Fanese ci sono ormai quasi duemila profughi con sensibilità, sono differenti e ancora in questo momento quello che vogliono tutti è che la guerra finisca, poi arriverà il momento del perdono, del cammino insieme, della condivisione dei canti, dello sport e della cultura. Bisogna arrivare alla pace ma adesso la guerra è in atto e qualsiasi iniziativa che si organizza non condivisa rischia di provocare tensioni. In questo momento meglio momenti di preghiera e di carità. Io credo che abbia visto veramente giusto questo padre e abbia detto parole ispirate. Rifiuti, sì all'aumento del 5,7%, intanto aiutino Covid alle ditte, le opposizioni però criticano i provvedimenti, siamo sempre sulla pagina di Fano, perplessa anche fattori, sconti simbolici. E a proposito di questi sconti, parla di sconto simbolico, cora fattori di azione più Europa, in quanto se si vanno a dividere i 400 mila euro per le stimate 2 mila utenze che beneficeranno della riduzione, a parte i diversi consumi, non è che si risolvano molti problemi, perché la media è di 200 euro ad utenza. E allora per esempio Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia dice invece, lamentando la discriminazione messa in atto nei confronti delle utenze domestiche, come se tra famiglie e imprese esistessero figli e figliastri. Quindi Fratelli d'Italia, la Tarsi chiede anche questi aiuti per le famiglie, non solo per le aziende. Poi c'è uno spazio qui di spalla, sulla pagina 21 del Corriere di oggi, anche c'è spazio per un flash di cronaca, un tamponamento a catena con un ferito che è avvenuto a Fano, un tamponamento sul tratto terminale della superstrada Fano-Grosseto, ieri intorno alla 17.50, in lese due conducenti, le conducenti di due vetture, mentre un automobilista fanese di 41 anni è rimasto ferito nella successione dei furti. Poi c'è un'altra notizia invece importante, questo vale per tutti, anche per i turisti che magari sono qui a Fano in zona e che magari hanno la macchina e vogliono parcheggiare là nelle strisce blu, dove fino a ieri la macchinetta per fare il biglietto era coperto da un cellofan nero con la scritta non attivo. Oggi invece questo cellofan non c'è più, l'apparecchietto che serve per fare la macchinetta per fare i biglietti sarà operativa e allora andiamo a vedere velocemente di che cosa si tratta. Tornano a partire da oggi, nuovamente a pagamento, i parcheggi del Lido e della Sassonia, coinvolti dal provvedimento la parte di Viale Cairoli, tra la ferrovia e il mare di Viale Adriatico, saranno in vigore fino al 15 di settembre e ogni giorno, compresi i festivi, dalle 8 alle 20. Il costo per un'intera giornata è di 10 euro, poi via via la tariffa si riduce, per un tempo ovviamente minore, richiedendo un ticket, un biglietto di 8 euro per 8 ore, di 3 euro e 60 per 6 ore, di 1 euro e 20 per un'ora di sosta e di 60 centesimi invece per la sosta minima che è quella di mezz'ora. Poi, sempre sul tema dei parcheggi, da questo articolo di Massimo Fughetti, si evince che la Lega in Consiglio l'altra sera si è dibattuto a lungo su una mozione presentata appunto dalla Lega che cercava di ottenere la concessione di un permesso di esonero dal disco orario all'interno della caserma Paolini per chi? Per i residenti che abitano lì nelle vie diacenti alla caserma, all'uscita della caserma. Almeno un permesso, come dire, per nucleo familiare, così come è stato fatto per gli abitanti di via Nino Bixio, che si trova sul lato opposto del grande complesso della Paolini. La richiesta non è stata però accolta. Andiamo a Pesaro. Campus. Gli studenti dal prefetto Cani Antidroghe Telecamere H24. I rappresentanti di istituto ieri sono andati a Palazzo Ducale dopo il pestaggio avvenuto a scuola. Hanno proposto anche attività di prevenzione sul tema della droga e iniziative con San Patrignano, che è la famosa struttura che accoglie appunto chi ha dipendenze da droga. I presidi hanno chiesto una regia unica per la videosorveglianza, oggi invece divisa fra le varie istituzioni. Blackout in tribunale. L'udienza si fa all'aperto, senza luce per 12 ore. Si è ipotizzato anche il sabotaggio, invece era un guasto. Un giudice si è adattato discutendo i casi in plein air, cioè all'aperto. Tutto è cominciato a mezzanotte. Alla fine si è capito che era colpa di un fusibile. Casse vuote, pesce introvabile, minacce da San Benedetto. I piccoli pescatori lunedì dicono abbiamo chiuso per evitare ritorsioni dai proprietari dei grandi peschereci. Abbiamo allertato le forze dell'ordine che hanno pattugliato la zona del porto dove vendiamo. Lunedì però appunto ci siamo dovuti fermare anche noi. Allora la situazione cos'è? Ve la spiego in 30 secondi perché siamo già in ritardo. Allora ci sono i piccoli pescherecci che chiaramente non hanno le sonvenzioni di quelli grandi e sono costretti ad andare a lavorare perché se non lavorano non mangiano e quindi vanno comunque in mare, pescano quello che pescano e poi lo portano nelle bancarelle della zona del porto. Chiaramente però siccome c'è una protesta in atto, uno sciopero in atto e lo sciopero a che cosa serve? A creare disagio, ma se poi c'è qualcuno che questo disagio lo diminuisce perché il pesce lo porta comunque sui mercati, è chiaro che i pescherecci grossi e quindi i marinai dei pescherecci grossi che fanno sciopero, vedendosi venificare i loro sforzi, cosa fanno? Minacciano quelli piccoli. Statevene a casa anche voi, però quelli piccoli devono mangiare mentre quelli grandi hanno le sovvenzioni. Capite com'è la situazione? La situazione è un po' particolare e tutto questo per il famoso caro gasolio. Tari arriva stangata del 17%, non possiamo farci niente, siamo sulla pagina della Valmetauro, l'assessore Mezzanotti in replica ai rilievi di MEI per le imprese, sono promessi comunque degli aiuti, insomma per quanto riguarda la Tari, la Tari su rifiuti, chi possiede un appartamento di 100 metri a Fossombrone, 100 metri quadrati con un nucleo familiare di 3 persone, dovrà sborsare circa 10 euro in più all'anno, stando appunto a quelli che sono i conteggi. Urbino Servizi invece ha raddoppiato i ricavi, bilancio nettamente migliore rispetto al precedente, anche per la riduzione delle perdite, in consiglio la relazione di Giulia Volponi dall'opposizione e si sottolinea l'aumento delle spese per il personale. A Senigallia i lavoratori sfrattati dai posteggi, il sindaco offre posti in biblioteca, il presidente della cooperativa dice ne parlerò con loro i parcheggi dell'ex GIL da oggi gestiti dalla comune. Bretella Nord è chiusa e il traffico va in tilt. Questa dovrebbe essere, sì, l'ultima, praticamente l'ultima nostra pagina dedicata alla nostra rassegna stampa. Io si vede che ho perso un po' l'allenamento perché, ecco, non trovo neanche più i bottoni. No, adesso l'ho trovato. Ecco qua, volevo farvi rivedere una immagine, ma lasciamo stare. Allora, devo tornare un po' in allenamento. Noi ci vediamo domani mattina, sempre alle 7. L'informazione invece torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo che il telegiornale noi lo realizziamo ogni giorno con tutta la cura, con tutta la professionalità che ovviamente abbiamo. Però è importante anche il vostro sostegno, il vostro aiuto in termini di segnalazioni. Quindi il numero di telefono lo vedete qua sotto, 338-4968-250. Non fateci mancare le vostre segnalazioni perché sono per noi fondamentali. Poi verificheremo, cercheremo di fare tutto quello che dobbiamo fare come prevede il nostro lavoro. Però ecco, il primo occhio, le prime telecamere sono i vostri occhi. Quindi mi raccomando, continuate a segnalare tutto ciò che vi accade attorno. Intanto vi auguro una buona giornata e arrivederci.